Amo che c'è? Io ho appena finito di truccarmi, sì Fammi vedere l'orario No, non c'è molto tempo per truccare anche te per la festa Perché non ti sei truccata fino ad adesso? Mi stavi rifacendo il letto Che carina Ci sarà la tua crush alla festa Quindi vuoi essere truccata? Guarda, io comunque il tempo c'è, nel senso non so da dove prenderlo È tardissimo, sono alle sette e mezza La festa inizia alle nove Poi finché ci vestiamo, finché arriviamo Lascio stare, stai bene così Mi regali il tuo top viola se ti trucco? Guarda, visto che stai insistendo così tanto Ti trucco, non lo faccio per il top Però se me lo vuoi regalare Come segno di gratitudine Lo apprezzo molto Allora, iniziamo col fondotinta La skin prep Ma su di te non è necessaria, sei tranquilla Ah, hai visto che su di me ci ho messo mezz'ora per farla Sì, beh, ma è diverso Non abbiamo molto tempo Però dai Qualcosa te l'applico, ok? Così sei contenta Ti metto poco poco di crema Per ritratare il contorno occhi Ecco, questa è proprio l'unica cosa essenziale Le pre-makeup Tutte le altre cose che metto io Insomma, non c'è bisogno Non ti preoccupare Ok Bene, ti idrato per bene appunto il contorno occhi Ok Ora che abbiamo perso questo tempo inutilmente Ti posso applicare il fondotinta Ok Allora, la scelta è tra questi due Allora Il mio preferito è questo E mi sta finendo Cioè Davvero ne manca pochissimo E poi l'ho finito E visto che costa tanto Non mi va di finirlo così, ok? Quindi ti applico l'Ue Vediamo Sì, dai La shade È molto simile alla tua Vediamo Sì, credo di sì Pensi che sia 20 volte più chiaro di te? Sei esagerata No, vita ti va benissimo Ora prendo la spugnetta E te lo applico Grazie a tutti Ok. Che c'è? Ti vedi una macchia qui? Qui. Allora, io capisco che vuoi essere truccata bene perché c'è la tua crush, ok? Ma non possiamo perdere 20 minuti per ogni passaggio, comprendi? Ok, amo dai. Sta bene, finta di di me. Allora, il contouring lo vuoi? Sì, ti è proprio strettamente necessario. Vabbè, ok, secondo me tu non hai bisogno perché già la mascella è molto definita, qui sei molto comunque scavata e quasi tratti un po' maschili, per farti capire bene. Però, vabbè, se insisti te lo faccio, cioè comunque ormai stiamo perdendo tempo, non ti preoccupare assolutamente. Tico 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 tico. lo vuoi anche sul naso io ho paura che sul naso ti vada a fare l'effetto contrario che te lo vada un po' ad evidenziare perché tu hai un naso molto come posso dire prepotente particolarmente insomma visibile si fa vedere ma è una cosa bella è un bel naso è grosso ma è un bel naso però te lo faccio te lo sfumo con il pannello in questo momento magari lo sottigliamo un po' e come dicevo prima hai comunque questi tratti un po' possenti un po' maschili molto belli ma maschili ok ok passiamo al blush vuoi vedere le diverse opzioni vabbè ok allora guarda c'è questo di nabla un attimo che te le prendo tutte c'è quest'altro e poi c'è questo vedi questi qua ti ricordi che io ce ne ho anche uno di Dior sì ma l'ho dimenticato a casa di un'amica quindi non ce l'ho come puoi scegliere soltanto tra questi guarda c'è questo qui di nabla che è fatto così come vedi ha sia la cialdina che poi una parte glossata che si può andare a mettere sopra per fare un effetto più poi abbiamo questo qui di Claire Beauty questo è nella colorazione hop molto bello è il mio preferito e poi c'è l'UID Essence questo su di te su di te questo spacca so che costa pochissimo ma veramente è fantastico questo prodotto cioè non te lo direi quindi fidati ti devi proprio fidare di mio parere cioè chi meglio di me che sono la tua amica più stretta ti può consigliare appunto come far di bella quindi andiamo di lui ok lo scelgo io per te lo scelgo io guarda che bello guarda bello su di te ha questo favile facciamo sorridi per favore hai mai preso in considerazione l'idea di farti il filler agli zigomi secondo me ti sarebbe meglio perché tu non ce l'hai molto pronunciati quindi anche che io ti metto il blush comunque cioè non fa un bel effetto però il filler secondo me te lo so consiglio tipo magari per il compleanno te lo fai regalare top allora anche qui sul naso stessa storia di prima io te lo metto ho paura di evidenziartelo perché come dicevo prima è abbastanza evidente da solo però te ne metto un pochino ok bene il correttore vuoi sei sicuro vedi che ora va ti muta un po' questo effetto un po' occhiaia stanca dai ti sto prendendo in giro no te la prendere allora ti metto questo correttore qua no stai tranquillo non è troppo chiaro per te e poi scusami questi sono i miei trucchi cioè che cosa dovrei fare comprarne altri della tua shade pur di truccarti cioè scusami ma come ragioni dai vedrai che questo facciamo funzionare se dite non ti preoccupare lo metto anche all'esterno dell'occhio andiamo un po' sulla fronte così ti copro tutte queste imperfezioni che hai se mangiando cioccolato in questo periodo ha sempre ciclo vabbè allora è normale anche se si come per tutta la nutella che ti mangi quotidianamente comunque cioè il suo effetto lo fa questa è la spugnetta che stava in bocca al mio cane prima no no allora scusami ti pare che io ti metto in faccia alla spugnetta che era casa te alla prima che aveva preso il mio cane dai dai non essere stupida di vedere questi punti ancora si vedono però non so proprio come fare vedi proprio qui tutti sulla fronte li hai vabbè dai non li noterà nessuno non li noterà mai la tua grass ok non era assolutamente per metterti una nuova insicurezza addosso so che tu già hai le tue insicurezze ma tranquilla non si vedono più non si vedono più allora ti applico la cipria così proprio non vai in giro effetto lampione che già adesso ti vedo che perdi un po' olio di qua un po' olio di là però no evitiamo evitiamo questo effetto da olio per friggere ma non ci piace non vorrei che qui alla festa ti prendano ti mettono in cucina e ti spremono sulle patatine e dai ridi una battuta cavolo un po' no tranquillo non è assai non diventa cakey la base d'olio per friggere e la torta di compleanno ti immagini? no tranquillo adesso ti fisso il make up perchè mai sia ti scappa via e si prendono tutti paura sempre scherzando ti dico queste cose lo sai sei bellissima non ti preoccupare divento questo fisso guarda come sono generosa un'altra amica come metto ve la trovi perchè questo è il mio prodotto preferito e tra l'altro costa tantissimo quindi se lo applico su te è perchè ti voglio davvero tanto bene davvero devi essere davvero fiera adesso guarda me lo metto un po' anche io ce lo mettiamo assieme ma si è il trucco se ne va durante la serata ok vedi ne applico un po' finito è abbastanza fida te ne ho applicato il giusto quanto l'ho messo a te ne ho messo a me tranquilla dai allora passiamo agli occhi ok agli occhi guarda ti applico questa palette qui di Nabla si chiama palette 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 così te lo stampi bene in mente che ogni volta che la utilizzo mi chiedi come si chiama come si chiama come si chiama come si chiama te l'ho detto 20 volte adesso magari vedi è la volta buona che te lo ricordi ok allora queste sono le shade disponibili io ti applicherei un po' di moonlight che è questo qua chiaro e poi andrei con un bel un po' di nero per intensificare bene lo sguardo che dici ma si fidati di me sono io l'esperta di make up o non ti staresti facendo riscare da me per vedere il lato cash allora essendo shimmer li applico direttamente con le mani non ti schivare non ti scandalizzare sono tua migliore amica sai che ho lavato le mani no non stavo giocando con il mio cane prima li ho lavate dopo le mani sei tranquilla ok si questo moonlight ti sta bene il nero però lo applico con il pennello perché non mi voglio macchiare magari ho il tocco bianco mi sporco andiamo col nero di con il lo applico che lo applico è wow bellissimo sembri proprio una tifa del cinema ti vuoi specchiare mi tieni ma fai fretta sempre che siamo in strutturre guardati stai bene vero? continui a pensare che il fondotinta sia un po' troppo chiaro no sta bene così sta bene te l'ho detto non ti truccherei mai in modo tappa non metterti risalto perché dovrei andiamo adesso con il mascara questo è il Pet Girl Bank di Benefit ok allora facciamo una cosa per facilitarmi il lavoro visto che è difficile mettere mascara su un'altra persona quando ti dico blink devi sbattere le palpe va bene quindi ti dico blink e tu fai e poi riapri ok così ci sbrichiamo zcje dico zico 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 ziya zico 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 bling te lo metto un pochino anche sotto va bene così apriamo bene questo sguardo che è sempre un po' addormentata non è dormito oggi è rinanzo perché vedrai autocrash dai però così si vede cioè si vede c'è le tue occhiaie capito nonostante il correttore si vedono vabbè apriamo un po' lo sguardo con il mascara vediamo che effetto fa guarda verso l'alto per favore che fatica mamma mia mi hai fatto sudare set top di per annie melville per applicarti questo cavolo di mascara allora adesso per le labbra vi applicherei soltanto guarda due prodotti e un olio idratante per il semplice motivo che sembra che si è appena diciamo sopravvissuta a un viaggio nel deserto perché lei è completamente scherpolate se ti baci con Marco puoi sentire il deserto del Sara quindi ti applico questa matita si tranquilla è nuova no non è quella di cui mi lamentavo perché fosse scaduta tranquilla non è non è non è non è si 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 te le ho riempite con tutta la matita non ti ho fatto solo il contorno te le ho riempite no non te le renderà più secche fare così tranquilla tranquilla tanto adesso andiamo con l'olio idratante dai non ti preoccupare non ti ho Keller grazie allora no så oh bene beh sei pronta siamo tutte pronte possiamo andare a questa festa ti piace? dai ricordati al look terminato ti saresti truccata meglio da sola perché? perché? cioè scusami ti è truccata al meglio delle mie potenzialità sei bellissima sei bellissima poi questo fototinta che ti schiarisce un po' ti dà anche un effetto più fresco più sano è bello sei tranquilla ok? allora adesso prima di andare il tuo top me lo prendo da sola vado ok? ok allora perfetto possiamo andare possiamo andare a questa vedrai che conquisterai crush sicuro ciao 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 ciao